Vabbè, io sono Luke e questo è un nuovo episodio, ragazzi, della The Awakening, la serie a tanti di voi piace, beh, non tanti tanti, però a molti di voi piace, dovete condividere, ragazzi, e lasciare un like, perché? Perché se questo video raggiunge 3000 like entro poco tempo, vi faccio uscire altri, non un altro, altri episodi oggi, può essere uno, può essere anche due, in più a questo. Quindi, sbizzaritevi, ditele ai vostri amici 3000 like entro pochissimo tempo, ok? Allora, visto e considerando che ieri in live, ieri ho fatto un live su YouTube, se lo siete persi è rimasto come video, molti di voi mi hanno commentato, Luke, mi piacciono questi live, eccetera, eccetera. Allora ho detto, siccome non riesco a fare live domani, ma io sto registrando di notte, non fateci caso, ma sono video per oggi che voi vedete, ho detto che non ho tempo di fare un live domani, lo faccio adesso, e nulla, poi magari suddivido i video e me ne carico due o tre, quindi faccio vedere tutto. Sto creando la stanzina qua dietro, l'avrei fatta off camera, e invece molti di voi mi hanno detto di non fare off camera, di farlo in live o in video in questo momento, ok? Quindi, scaveggio insieme a voi, farò qualche taglio, e voglio fare questa stanza in più, ok? Allora, poche parole, qua vorrei fare, camera da letto e cucina, cucina, non lo so, l'impiantologia la farei sotto, sotto casa, quindi vi faccio vedere dopo. Allora, allargo un po' qua, tanto col martello è easy, bam, che bello sto martello, che bello sto martello, guarda qua. Ah, è vero che la terra col martello non va, logicamente. Ragazzi, vi invito ad entrare nel mio gruppo Telegram, Luke4316, TG, ricordatevelo, ricordatevelo, TG, entrate, 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 perché potete scrivere anche voi, è una cosa figa. Qua mettiamo il pavimento, e io direi così va bene, grigandezza, dai. Allora, legna fu, facciamoci tutto il contorno, ho deciso ragazzi, mentre scavavo, il contrario, qua farei la stanza di tutta questa roba qua, la sposteremo, e qua faremo la cucina, forse è meglio, la cucina mi serve una stanza un pochino più piccola, qui invece faremo lo stanzone con gli ambaradam, sapete che faccio? Allargo ancora di più, che poi se non fosse per questa terra, sarebbe anche più veloce, allora facciamo così, voilà, giriamo di qua, e andiamo, eh, te pareva terra. Io faccio così, ci metto un blocco di questi, guardate, e fotto il sistema, perché rompo quelli sopra, aha, ok ragazzi, sto scavando il soffitto, scusate per questo enorme taglio, ma guardate un po' che sto combinando, porca paletta, eh, nulla, nulla, se non volete ammosciarvi assieme a me, mi beccate un altro taglio, per forza, voilà, voilà, a quanto era quotato che io finissi la legna? E chi ce l'ha pensato, porca paletta, mi svuoto e andiamo a prendere legna, per forza, allora, qua sono pienissimo, mamma mia, guarda qua, poi ho trovato altri materialucci, che mettiamo via anch'essi, via via, dunque nanna e si riparte al lavoro ragazzi. Ho del ferro nell'inventario, perché passando, passando, vorrei andare a prendermi del mana steel, oh ma sto dormendo all'aperto, è vero? C'ho il tetto aperto, guarda qua, c'ho il tetto aperto, vorrei andare a prendermi del mana steel, qua ragazzi, figata, figata, faremo poi il piano di sotto. Ah, e qua ho cambiato un po', guardate, più figo così, no? Passo, mi scarico, poi attivirò la doccia, passo, mi... Chi c'è là fuori? Qua devo stare attento anche ai topi, lo sapete? Perché abbiamo scoperto che i topi sono picco qua. Ok, sei andato. Dicevo, volevo fare un po' di mana steel, ne un po' quanto ne riusciamo a fare? Eh, disattiviamo la lambra dam, ok. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, sette, sette mana steel. Beh, ottimo, dai. Ora la spada l'ho bella ricaricata e andiamo a fare legna. Eccolo qua, il nostro amico Ba-U-CHA, il nostro amico Ba-U-CHA che urla, urla, e urla lui, certo. Muori. Che casino che fa. Casinistica. Casinistico. Casinististico. Ragazzi, mi son visto la Roma. Ora, mi son visto la Roma giocare a calcio, al pallone, lì, a quel gioco lì, quello sport. Cinque a due. Cinque a due. E chi fosse interessato e andasse a vedere il mio video di ieri, che ho fatto dell'Inter, ho detto che la Roma sarebbe finita in goleada. Ho detto anche quattro o cinque gol da parte della Roma. Quindi l'ho azzeccato. L'ho azzeccato. Attenzione. 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 Domani, se riesco, faccio anche un video. Sulla Champions League. Diciamo se volete il video sulla Champions League. Magari qualche pronostico su UE Tottenham. O qualche precisazione, o qualche mio pensiero, ecco. Diciamo così. Allora, devo mangiare? Prima di tutto. Prima di tutto lo mangiare. Che palle gli alberi giganti. Che palle gli alberi giganti. Vabbè, ma potevo cadere nel buco io. Ma porca paletta, non hai? Ma muori? Ma dai, mi hai avvenenato. Viva che crepico. Allora, vorremmo a casa. Devo mangiare. Non posso mangiare. Ma chi c'ho qua dentro? I semi non si immagini. Non si immagini i semi. Dammi qualcosa in più. Dammi qualcosa in più. Ti prego. Te ne prego. Te ne prego. Tutta questa alberelli. Io li butto le qua. Minecraft. No, mi si è chiuso. E da ieri, ragazzi, anche in live. Un crash continuo. Ma ho visto che anche Marcus Crono crasha. Quindi è qualcosa. A un certo punto è in conflitto con qualcos'altro. E dopo mille, mila anni sono entrato in Minecraft. Però si è bloccato perché sta facendo tutto l'update, delle mod, eccetera. Un pacchetto molto pesante. E nulla. Aspettiamo ancora un po'. E nina, 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 e... E guarda come mi faccio al video. Si è richiuso, ragazzi. Si è richiuso. E rieccomi. Si sono crashato ogni volta quando aprivo quel coso. Vaffanciulo, non l'apro più. E che pascola. Ok, ragazzi, ok. Allora, volevo fare... Ah, dovevo finire qua. Quindi legna e nulla. Finiamo. Quasi finito. D'ultimo due righe. Vai, vai, vai. Poi il pavimento me lo farò con calma perché già mi sono fatto le scatole, sinceramente. No, no, ho finito la legna. Ma non ci credo. Ma non ci credo, l'ho finito la legna, raga. Mi mancano uno, due, tre, quattro, cinque blocchetti. Et voilà. Et voilà. Allora, questi qua li spostiamo, logicamente. Ora non mi servono. E prendiamo questi cinque blocchetti di legna. Vai, andiamo. Guardate quanto è alta la fornace. Ah, è piccolina ma è alta, dai. Allora. Ma perché vado a 36ps? Ma che c'ho adesso? Ma che c'ho adesso? Dai, pacchetto, non fare scherzi, ti prego. Voilà, tutti. Ah, fatto. Finici. 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 No, 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 è finici. Qua. Oh, tutta questa roba la sposteremo. Si rompe questo, vero? Eh, ok. Così qua c'è l'entrata. Carina, caruccia. Va bene, dai, va bene. Qua l'ambaradam, va bene. Qua facciamo il letto. Qua magari facciamo anche una cosa del genere. Ma sì, guarda. Proprio così, all'antica. Ma sì, così. Qua dorbo, ma sì, raga. Va bene così. Allora, dovrei fare il trasloco. Perché è aperto qua? Dovrei fare tutto il trasloco di tutta questa roba. Mamma mia. Ci metterò otto anni. Vabbè, anche se con la calamita magari un po' di meno. Però, però, però. Però, però. Allora, qua abbiamo una bella batteria. Ok? La bella batteria... Io al momento la metto qua. Così mi ricordo. La dobbiamo riempire di corrente. Noi volendo qualcosina di corrente abbiamo... Per generare corrente inizialmente. Abbiamo il generatore. Abbiamo anche due energy conduit. Oh, non è male, eh. Abbiamo del coal. Abbiamo del charcoal. Ma anche questo coal. Che non è male, come idea. E io al momento potrei iniziare a fare così. Perché è... Ma anche senza cavi, sinceramente. Se non erro, se io metto della corrente, no? Metto della corrente. Ok? E arriva. Fantastico. Se io poi che schi lo rompo. Mi rimane la corrente, vero? Mi rimane la corrente. O sbaglio? Eh sì che mi rimane. Fantastico. Allora sì. Vai. Fai corrente. Fai bello. Fai. Fai corrente bello. Fai. Toh. Hm. Potrei anche addirittura... Toh. Oh. Dormiamo qui. Settiamo il nuovo spawn. E nulla. 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 Questi li togliamo. Perché la cucina, come ho detto prima, la facciamo di là. E devo vedere anche come si usano questi qua. Dai. E questo. E il frigorifero. Ok. Io inizierei a metterli qua, per esempio. Allora. Questa cesta è quella della magia. Non c'è quello che porta le ceste. Come si chiama? Il tra... No, non è il traslocator. Ragazzi, come si chiama quello a fare con le pinze che porta le ceste? Niente, non c'è né quello né il carrellino. Almeno io non l'ho visto. Porca paletta. Eh, è un casotto. È un casotto. Io questo qua. Devo spostarle di qua. Vabbè, mettiamo giù il frigorifero. Intanto. Ok. Frigorifero. Questo non so che cos'è. Vabbè, il lavandino. Il forno. E poi c'è l'altro forno che lo poggio qua. Ma poi lo farò meglio. Ok? Buongiorno. Ah, devo iniziare a fare questi qua, è vero? Ne ho fatti un po'. No, facciamoli altri. Facciamoli tutti. Facciamoli tutti. Ma per favore. Facciamoli tutti. Voilà. 64 di questi potrebbero bastare. Ma me ne servono ancora. Quindi continuiamo. Allora, engine... Scusa, è un enderman. Engine Riss, ragazzi. Voglio... Perché è così piccolo? Madonna mia. Voglio vedere una cosa. Allora, tool. Come si fa sta roba? Cook over? No, inducer. Metal plate. Plate. E questo qua? Sì. È lui. E in Johnny Summer. Si possono fare così gli iron plate? Ferro. E questo qua? O con la metal press? Allora, diamo un attimo. Se con questo... Dove l'ho messo adesso io? Dimmi che ce l'ho qua. Dimmi che ce l'ho qua. No, però io ce l'avevo il martello. Io me lo ricordo... Mi ricordo... No, non mi rompete. Io mi ricordo... Che avevo il martello... No, dai. Non scherziamo. Io avevo il martello... Di questa mod, ragà. Della Ingenieris. Ingenieris. Come cazzo si chiama? No, cosa? Cosa mi stai narrando? Io avevo il martello. Eccolo qua. Allora, questo qua col ferro me lo fa? Speriamo. Perché adesso mi tocca fare un macchinario, ragazzi. E secondo me il creatore ci ha bloccato. Ci ha bloccato. E infatti. Ce l'hanno bloccato, non si fa così. Vabbè. Vabbè. C'è vabbè niente. Bisogna fare questa roba qua, ragazzi. È un casotto, eh. È un casotto. Dobbiamo fare questa roba qua. Caschio. Come la shift si blocca, no? Allora, tre. Un pistolone. E questo qua che è quello scuro. Tre. Un pistolone. E quello lì. Allora. Scusatemi, eh. Eeeh. Ingeniering. Ok. Tre di quelli là. Un pistolone. Tre di quelli là. Ma quali quelli là? Scusami. Questi qua. Questi qua mi servono. Che è sto robo? Ma tu stai scherzando. Ma tu sei malato con le pannocchie in testa, dai. No, non è quello. Questo qua mi serve. No, è questo qua. E anche questo mi serve. Due pistoloni. Questo è fattibile. Questo ce l'abbiamo. Fattibile. Però poi vi servono quelli là, vi sembra, no? Scusatemi. Scusatemi. Eh sì, eh. Com'era? Shift, alt. Com'era? Per bloccare... Ah, così. Ok. Non mi dice l'elenco? Comunque sono quelli, dai. Sono quelli là. Sono questi qua. E com'è che si craftano? Ma tu sei malato di testa. Vabbè, non è difficile. Faccio un paio di forbici, quattro bastonciani. Vabbè, non è difficile, dai. Ma lo vedremo nel prossimo episodio. Mi sono dilunguato già troppo. Voi vi disse un sacco di tagli. E nulla. Ho fatto ben poco in questo episodio. Ma abbiamo finalmente ingrandito questa stanza. Un bacione. Un abbraccio. Nel prossimo episodio. Ciao! Un abbraccio. 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 Un abbraccio.